Io sono Moni B, ma Moni B non sono solo io, Moni B è una donna che accompagna i bambini a scuola, che corre a fare la spesa, Moni B è la ragazza della porta accanto che fa un milione di cose, ma nonostante questo ama cucinare per se stessa, per sua figlia e non solo, anche grazie alla moderna tecnologia. Attacco, 30-35 minuti e lei fa tutto da sola. Il mio lavoro mi porta ad avere un blog che aggiorno costantemente, intervisto persone che fanno mestieri particolari sulle loro abitudini alimentari, spesso in situazioni ricche di adrenalina direi. L'equipaggio sul mio aeroplano siamo in sei e quindi tutti e sei dovremmo mangiare cose diverse. Cucina veloce, fazione per il cibo, femminilità, famiglia, affetti, tutto questo è Moni B. Entrate nella mia vita, nel mio lavoro, nella mia cucina, scoprirete come anche all'ultimo minuto fantasia e creatività possono riadattare in modo semplice anche le ricette più complicate.